Allora amici, guardate, oggi vi faccio vedere l'hotel dove siamo qui a Oau, nelle Hawaii, questa è la nostra stanza. C'è Martina che si sta mettendo le scarpe. Siamo nella zona nord dell'isola di Oau, quella dove c'è anche Honolulu, e siamo nella Tartor Bay Resort, che è uno dei più famosi di qua. Chiudo? Sì, sì, è il resort più famoso di tutta... Ghirlande di fiori ci hanno dato, appena siamo venuti, fai vedere cosa ci hanno dato. Ecco qua, le Ghirlande di fiori, bellissime, sono stupende e poi a me invece che sono, diciamo così... Questa. Uomo. Con tipo... dove le chiameresti queste? Eccola qua. Tipo delle pietre. Sì, queste sono per gli uomini. Va bene, possiamo andare. Io mi metto questa, vediamo, non so se me lo faranno fare video, mi bloccheranno, cosa succederà. Eh, non lo so, per la privacy, ma noi proveremo a farlo. Non facciamo finta di niente. Eh... Ok. Andiamo? Andiamo? Ah, metto un po' di profumo. Sì, sì. Comunque la stanza è questa, adesso tra poco andiamo. Qua vede, ci sono le onde, perché c'è una piena di surfisti. È una... è un'isola... L'abbiamo già detto nel video precedente che qui è nato il surf. Comunque questa è la spiaggia dove stavamo, veramente carina. Per fortuna là c'erano delle massi, delle rocce che evitavano che le onde minissero qua e quindi qua è bella. Va bene, andiamo, dai. Andiamo? Andiamo a vedere come è la situazione. Allora, le chiavi ce le abbiamo? Abbiamo tutto. Sì, allora, riguardo le chiavi, ci ci hanno dato dei braccialetti che vi faccio vedere che sono questi qui. Molto comodi questi qui, eh? Ecco fatto. Perché noi siamo una di quelle coppie che dicono, hai preso tu le chiavi? Sì, invece così. Adesso stiamo camminando nel corridoio, siamo nel terzo piano. Tarturber il resort, se andate a cercare praticamente online, noterete che qui sono stati fatti tanti film, tra cui Gumanji, Magnupiai, Lost. Sì, sì, no, Gumanji. Gumanji. Sì, 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 Gumanji. Loro proprio nella pagina del resort, ti dicono tutti i film che sono stati fatti. Chiaramente è un luogo molto bello, devo dire. Davvero molto, molto figo. Stanza carina, tutte le stanze hanno vista mare. Quindi alla fine neanche c'è da dire, devi scegliere la stanza migliore. No, sono tutte con vista mare. Io direi che ci sono molte famiglie. Dai, che ci stiamo perdendo al tramonto. Il tramonto è bello. Dai, dai, dai. Andiamo direttamente fuori. Sì, no, ma ovvio che andiamo fuori. No, da quella parte mare. No, no, ma è ovvio, è ovvio. Facciamo il cammino che abbiamo fatto oggi. Quello che abbiamo fatto oggi, facciamo. Sono le 7 e 2. 7 e 2, sì, no, ma ce la facciamo. Sì, 7 e 10 tramonta il sole. Sì, ma non ti preoccupare. L'ascensore è velocissima. E adesso, ragazzi, tra un secondo usciremo dall'ascensore. Andiamo subito fuori, perché è la parte di fuori che è bella. Eccoci qua. Bellissima. Allora, questa ovviamente... Guardate i colori già da qua che si vede. Andiamo di qua. Io ti direi di andare da qua. Invece. Perché da qua? Perché facciamo vedere quanto è bello lo scorcio dall'infinity pull. Ah, questa qua. Eh sì. Vediamo se si vede bene da qui. Sì, sì, si vede bello. Bello, eh. Volevo venire a fare l'arretto. Va bene, il barretto. Esatto. Vedete, questo è il barretto. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Usciamo, no, usciamo da là, dai. Allora, stiamo andando, stiamo camminando tranquillamente. Bellissimo. Ah, che belli quei hamburgerini e le patatine fritte. Ah, qua c'è il musicista. Bello. Bene, bene. Allora, eccoci qua. Oh, è lungo il percorso, eh, per raggiungere... Eh, lo so, ci vuole un po' di tempo. È bello grande questo resort. Eh, voilà. Allora, chiaramente siamo all'interno di quello che è il bellissimo... Guardate che bel panorama, si vede. Veramente fantastico. No, anche il tramonto... Ci stiamo anche trovando un tramonto meraviglioso. Lui c'è la piscina. Questa è la struttura di cui vi parlavo. Adesso andiamo in spiaggia. Così potete verlo senza dubbio meglio. Da dove andiamo? Ti ricordi? Direi di... Gira di là? Direi di portarli direttamente a vedere il tramonto. Ma guarda che colori, senti, ma ieri non c'era questo tramonto. È bellissimo come tramonto. Questa è praticamente l'infinity pool. E potete osservare come questo è il... E' la Vascredo Massaggio, dove la gente si riscalda. Siamo al tramonto ed è veramente stupendo. Bello. Allora, il posto è fantastico, devo dire che... E' davvero meraviglioso. E ripeto, siamo a Tartorberry. Abbiamo visto anche le tartaruche. Vi racconto, questa è la piscina. Ovviamente siamo al tramonto, non c'è nessuno in piscina. Questa è la terza piscina che c'è. Sì. Allora, a Tartorberry, io ho nuotato con una tartaruga. Ragazzi, non ci credevo. Ma praticamente, ora ve lo spiego. Guardate che bello. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci, se no ci vediamo il tramonto. Corriamo un po'. Guardate, questa è la piscina, questa è la struttura e quella è lo scivolo. Non è chiuso comunque. Chiudono presto qua. Cioè, c'hanno degli orari. No. Mamma che tramonto. Andiamocelo a vedere. Questa qua è la baia dei surfisti. Non so se ci sono dei surfisti. Oh, andiamo subito. Ci dobbiamo godere questo tramonto. Ora vi spiego un po' di cose. Stiamo correndo perché siamo... Vedete i surfisti? Questa location è spaziale. No, vedete qua? Qua ci hanno girato diversi film. È proprio un ultra selvaggio. Oh, io vado, eh. Vai, vai. Qua se ci può sedere. Là c'è un surfista. Ma qua è pieno di surfisti. E c'è la gente che si gode il tramonto. Ecco qua. Vedete che bello? Mamma mia. Spettacolare questo tramonto, eh. Ragazzi, vi stiamo facendo vedere un tramonto che è la fine del mondo. E' meraviglioso. Questo è tutto il resort. Bello, bellissimo. È bello, eh. Andiamo in spiaggia, dai. Perché siccome anche in spiaggia è bello. Andiamo in spiaggia? Eh? Aspetta. Aspetta, fermo. Deve fare la foto? Deve fare un attimo la foto. No, volevo prendere il momento dell'onda. Il sole è down. Siamo andati. Bellissimo, eh. E' finito il tramonto. Però è stato un tramonto spettacolare, ragazzi. Beh, vi stiamo facendo per la confusione. Andiamo in spiaggia un po', dai. Facciamo tutto il palazzo che avevo fatto prima. Prima che venga buio, perché altrimenti... Dai. Ma tanto non veniva bene. Di molti belli ne vedremo anche più. Ma va, figura. Ne vediamo migliaia. Allora, vedete come qua tutti si rilassano. Si guardano il tramonto. Però vi garantisco che questa vaia dove ci sono i surfisti è veramente stupenda. Ora, continuiamo. Bella, eh. Ma guarda, che anche la spiaggia si vedeva bene. Questo era quell'albero dove ti volevi fare il... Dove ti volevi fare la foto, no? Si. Io ho nuotato con le tartarughe senza volerlo. Vi spiego dopo, vi spiego come mai. Ah, ma stanno tutti qua a vedere il tramonto. E i surfisti anche. Surfisti e tramonto. Ecco, bellissimo. Che combo. Aspetta, aspetta. Cosa c'è di meglio, no? Eh? Bella. Vuoi fare la foto poetica? Guarda che bella. Guarda che foto che ho fatto. È bella sì. Bellissima. Sì, sì. Mamma mia. Insomma, questo è l'unico resort che si trova in questa isola a nord dell'isola, wow. Perché quasi tutti stanno a sud dell'isola dove c'è Wakiki e dove c'è la capitale Nolulu. E invece questa qua è un'isola. Questo resort si trova nel lato nord, non nel lato su ed è l'unico. E l'ho scelto proprio perché era l'unico, ha una certa età ma è stato primordernato e ha questa struttura molto cinematografica. Come vedete anche da questo video c'è tantissimo cinema. Dove andare in spiaggia, non posso aspettare perché se ne va il sole. Lei che si vede tantissimo bene, pensavo dalla spiaggia. Si vede bene, non ti preoccupare. Eh ma il sole è coperto. Allora rimani qui, io vado in spiaggia un attimo. Andiamo amici, adesso andiamo nella spiaggetta che è veramente fantastica. E come vedete allora io in questa spiaggetta ieri ho infilato la maschera per fare snorkeling e mentre stavo osservando dei pesci bellissimi, cioè un pesce con una strana antenna, grande, bello, ci sono i coralli, mi sono trovato di sotto a me, a un metro di distanza, una tartaruga che nuotava. E io ho iniziato a nuotare con la tartaruga e la tartaruga non scappava, cioè la tartaruga nuotava con me. E io andavo a destra e lei andava a destra, io andavo sopra, gli stavo dietro. È stata un'esperienza bellissima. Poi dopo, vabbè, se ne è andata. Dopo se ne è andata. Ecco qua, questa è la struttura. Guardate, la struttura diciamo non è la bellissima. Adesso vi faccio vedere la spiaggia, se non se ne va il sole riusciremo a vedere una spiaggia. La spiaggia è stupenda comunque. Questa è bellissima. C'è anche un po' di venticello qua. Ecco. Però devo fare vedere la spiaggia, perché la spiaggia poi si vede anche la camera in cui stavamo prima. Un po' di vento? Eh, guarda, l'unica pecca delle Hawaii che ha anche il suo fascino, secondo me, la sua caratteristica, è proprio il vento. Sì, lo spiegavamo anche... C'è tanto. Lo spiegavamo anche in un video precedente che praticamente le Hawaii sono ventose, isole immerse nel nulla, nel Pacifico. Cioè, pensa che uno che nasce all'Hawaii, no? E vive all'Hawaii, il mondo gli deve sempre avere un posto così lontano, perché ogni cosa voglia visitare si deve fare tipo... Sempre per un po' di 10, 11, 12 ore. Le cose più vicine saranno tipo San Francisco, Los Angeles a 6 ore, Tokyo a 8 ore, Sydney pure, su Bergiù non è tanto lontano. Qua è la spiaggetta, adesso ci andiamo un attimo. Che bello! Questi, vedete, sono i classici clienti. Diciamo che non è che... Io ho notato, no, non so sicuro che ho notato, che vi è una... Diciamo, c'è una clientela mista. Famiglie, con bambini, coppie giovani, ragazzi giovani. E poi ci sono anche... Ci sono coppie, anche... Però non ci sono italiani, questa è la cosa che abbiamo notato, no? Siamo gli unici. Siamo gli unici e comunque gli incuriosiscerò molto la nostra lingua, tant'è che quando parliamo ci chiedono che lingua è. Di solito se avessero, diciamo, familiarità con gli italiani, saprebbero riconoscere facilmente che è italiano. Invece ci è capitato che ci chiedessero che lingua è. Guardate, qua mettono subito le fiamme, qua il fuoco. Questo è King's Walk. Comunque non sarà proprio una meta in cui un italiano va spesso, però magari viene scelta come viaggio di nozze. Sì, chiaramente il mito, il fascino della parola Hawaii è presente, però diciamo che quando in italiano vuole fare un'esperienza esotica, di solito va tipo alle Maldive. Sicuramente non qua, ecco. Sì, perché cerca, diciamo, quelle foto da cartolina, d'acqua limpida, cristallina, tipo Polinesia. Invece qua, essendo, anche a parte Re, quest'acqua è bellissima comunque, però essendo un luogo ventoso, è chiaro che è perfetto per i surfisti. Cioè tutte le Hawaii girano e ruotano attorno al surf. Ebbè, ci stiamo facendo una bella camminatina. Poi c'è il nostro localino preferito. Adesso andiamo in spiaggia, poi lo siamo anche... Comunque il resort è immenso, noi vi facciamo vedere solo una parte, perché poi ci sono cammini di trekking, stiamo andati in una baia delle tartarughe. C'è lo stable con i cavalli, il meggio. E' immenso, ci vorrebbe una vita per farvelo vedere. Il campo da golf hai detto che c'è? Il campo da golf. Il campo da tennis. Allora, questo è l'accesso per il... Ecco qua, beach. Beach, access. Access. Se no ci criticano il nostro... La nostra pronuncia giustamente. Ed è l'accesso. Allora, la spiaggia è pubblica. Ovviamente il resort ci dà anche delle sdraio, così. Io ti aspetto qui così evito di... Perché ho le zette. Vai, vai, allora aspettami qui. Ti aspetto qui? Qua è il ristorantino dove abbiamo mangiato. È impossibile, dai, fino a qua. Fai vederla, spesso ti aspetto qua. Sì, si faccio vedere. Che buon d'ore. Faccio una piccola passeggiatira sulla spiaggia. Purtroppo ormai è notte, quindi diciamo si vede poco. Però vi posso garantire che è veramente molto molto bella. Avevamo le nostre sdraio qui dove ci sono gli ombrelloni. E come potete osservare questo qua, se lo vedete il resort, che ha questa sorta di... È come un'elica. Uno, due, una terza parte di là. Mi fa piacere fare questi video che sono un po' inconsueti rispetto a quelli che faccio sempre in cui passeggio per New York. Mi ho pensato che magari potrebbe interessarvi, no? Vedere un qualcosa del genere. Venere, già che mi trovo, voglio condividere con voi questa bellissima passeggiata che sto facendo alle Hawaii. E devo dire che mi è piaciuto. È un viaggio che mi è piaciuto. È un viaggio costoso, nel senso che le Hawaii non sono economiche. Ma c'è anche da capirli. Sono sperduti nel nulla. E quindi fondamentalmente tutto ciò che arriva qua costa. E come dicevo, io credo che l'italiano perfetto per venire alle Hawaii sia l'italiano che ama i surf. Cioè io immagino che l'italiano che ama i surf dice ok, vado a fare un viaggio a Hawaii. Perché pensate voi che da New York ci vogliono 11 ore. Quindi dovreste arrivare a New York, per esempio. Già sono 8 ore. E poi dovreste fare gli altri 11 ore. Cioè sono 20 ore. Però sapete cos'è? Chi viaggia Quando sei felice della metà in cui vai i viaggi non ti pesano. Et voilà. Guardate la gente che osserva. L'acqua non si vede, però vi dico che è limpidissima. È spettacolare. Davvero bella. Magari vediamo qualche tartaruga. No, non penso. Eccoci qua. Qua ci sono questi sassi. Molto carini. Magari vediamo qualche animale spiaggiato. E questa è la zona, diciamo, questa è una sorta di quella piccola baia che vedevamo dalla finestra mia che era là. O là, non mi ricordo. No, è là. Là era la mia finestra. Però è chiaro che poi ci sono tutte spiagge molto molto belle qua. Vediamo, magari vediamo qualche animale. No, non penso. Ho fatto uno strilletto. Credetemi che questo Pacifico, questo mare così burrascoso, no? Secondo me, no? Sto all'Hawaii, ho il Pacifico davanti. Mi dà proprio un senso incredibile. Sto su questi scogli. Mi dà proprio un senso incredibile di bellezza, di libertà. E ciò, in camera, potete sentire qualche animale, non vedo niente. E in camera ascolto questo vento e queste onde che creano un suono proprio ultra-waiano. Ripeto, poi qua stiamo nella parte più selvaggia che è la parte nord. Ieri Martina si è fatto un'escursione a cavallo e ha visto una foca spiaggiata. Che poi sono animali fantastici. A me fanno impazzire. Et voilà, torniamo ragazzi. Eva, io sono una ma... Allora, io amo la natura. Guardate che bei colori, ragazzi. Sono veramente stupendi. Allora, io amo la natura e non c'è proprio nulla da dire. Però, vi dico ancora, io ho fatto il video precedente su Wakiki. La spiaggia di Wakiki è come dire Copacabana. Cioè, sono spiagge che di per sé incarnano un vero mito, una vera filosofia di vita. Wakiki incarna la filosofia di vita del Sef, che è una filosofia chiaramente molto libertaria, molto, diciamo, a contatto col corpo, col mare, a contatto veramente con la natura più intima dell'uomo. quindi Sef comunica libertà quasi sempre, a parte che poi lo leghiamo molto alla giovinezza, a questi fisici scultore, anche se poi è uno sport che si pratica ogni età. Ma pensate che mi ha sorpreso vedere talmente radicato la Hawaii Sef che io vedevo bambini veramente di due anni che i genitori si passavano, mettevano la bambina sulla tavola e la spingevano da un lato all'altro e mentre il Sef era in movimento la bambina stava in equilibrio sulla tavola già a due anni. È chiaro che quando già a due anni impari a stare in equilibrio sulla tavola diventa facilissimo per te e poi da grande te la godi, no? E poi ci sono queste onde enormi. Qua a North Shore soprattutto d'inverno mi hanno detto ci sono delle onde pazzesche e quindi ci fanno anche le gare. Adesso è estate le onde vi passo di capire sono un po' più piccole. Poi ci sono degli uccelli fantastici devo dire coloratissimi e ho visto dei pesci coloratissimi. Vedete questo uccellino? Non è stupendo? Non so cos'è. questa è la zona degli hotel dove sono i bungalows più familiari però questa è la struttura ora andate a vedere su wikipedia dovunque vogliate vogliate Tartor Bay Resort e vi ricordate questo panorama fantastico. Mamma mia è stato bello camminare. Ragazzi viaggiare è sempre bello devo dire che sono tre soldi meglio spesi che io possa ricordare davvero so che non oggi riflettevo sul fatto che poi io conosco persone che magari soprattutto della propria generazione che non viaggiano e non hanno desiderio di viaggiare e lo capisco perché ognuno è figlio della propria generazione noi dobbiamo sempre pensare che il viaggio è qualcosa di molto moderno di molto contemporaneo negli anni 60 70 si scoprì il viaggio in Italia e si muoveva tramite chiaramente le auto la nuovissima 500 i viaggi internazionali hanno iniziato a prendere piede negli anni 80 90 quindi è una cosa abbastanza moderna dove sei arrivato? eh sì dove sei arrivato? sono arrivato sullo scoglietto là per vedere se vedevo qualche foca ma non ho visto niente allora questo ovviamente c'è la cena ma sai che c'è vita comunque molto e vengono tutti molto eleganti non me l'aspettavo eh che facciamo? vogliamo tornare dietro? eh dai torniamo dietro dai ok vogliamo andare da un'altra? dove vuoi andare? questa è la doccia qua certo che si fa buio in un attimo eh però ce lo siamo goduti il tramonto vedete c'è delle correnti bisogna che sono i boi boi stay to right of bo ah le boe ah bisogna stare alla destra della boa lì c'è la boa e infatti quando la gente andava sulla sinistra c'era quello che un fischietto che le chiamava è probabile che sulla sinistra ci siano delle correnti che tu non te ne accorgi e ti trascinano a largo perché solo così me lo spiego perché se no non lo specificavo stai a destra sì perché chiaramente ragazzi le acque pacifiche sono pazzesche cioè hanno delle correnti che poi uno poi pensa quando uno ha visto come si chiama quella serie bewatch bewatch cioè magari no che in italia quando c'è bagnino a mare non è che viene quindi non c'è il bagnino però hai visto assolutamente quel tipo però voglio dire in italia il bagnino non è che viene sempre chiamato in causa invece se vai sulle spiagge oceaniche americane il bagnino ogni 5 minuti sta con fischietto in mano a dire tornate dietro tornate dietro tornate dietro le acque nostre non sono così insidiose sì cioè bagnino in italia mica a meno che mi ricordi non sta sempre con fischietto a chiamare la gente invece qua quando vai negli stati uniti sta sempre con fischietto a chiamare tornate dietro e osserva con attenzione perché chiaramente se ci succede qualcosa è sua responsabilità infatti deve capire dallo sguardo insomma se qualcuno ha fatto vedere dove si affaccia la nostra camera sì sì l'ho fatto vedere beh noi stiamo tornando dove eravamo prima sì sì ma adesso la diretta la finiamo perché tanto ormai questa ormai si fa buio e diventa un po' difficile continuare le diretta anzi la chiudiamo già qua quasi quasi anzi andiamo di là e la chiudiamo facciamo 30 minuti di diretta che guardate che a me da voi piacciono lo dico lo dico davvero non sono paradossalmente come ho detto nel video precedente secondo me hanno anche una maggiore tra l'altro a Martina gli fanno sempre i complimenti sull'outfit a me non mi si calcola nessuno qua invece si vede che sta in linea questo è il caddy perché poi tra l'altro ci sta anche il campo da da golf ti hanno fatto un sacco di complimenti però poi di fatti che volevo dire no ho detto ci hanno un'anima un'identità molto forte cioè mentre quando io quando vado ai carabbi trovo solo isole un po' disastrate queste sono isole originali queste sono isole con un'identità con una cultura forte con un popolo anche benestante ovviamente non è che sorricchi però rispetto ai carabbi dove tu vedi proprio la povertà qua bene o male li vedi che vivono bene abbiamo visto hanno l'uoli concessionari Lamborghini Ferrari non è una cosa molto molto comune guarda che bello quest'albero e dicevo che secondo me così come andiamo di qua perché è brutto così come New York ha un suo suono il suono delle sirene quel quel sottofondo new yorkese anche le Hawaii hanno questo suono di vento misto a onde no non è ancora finito il tramonto andiamo a vedere che sta succedendo allora si è tinto il cielo di rosa eh sì comunque non avrà come hai detto tu prima le Hawaii non avranno quei panorami non quei panorami scusami quelle saline veramente da cartolina ma c'ha dei tramonti pazzeschi classici con la palma no allora se noi parliamo sono andati a vedere una foto dove riconoscevi immediatamente che quella foto è stata scattata alle Hawaii la classica palma le palme selvagge su questo mare buro prascoso no non hanno quelle acque che tipo se vai a vedere la polinieri bora bora che vedi queste acque incredibili che poi sono un effetto ottico dovuto al fondale non è niente di che non è che l'acqua più pulita però è chiaro che le Hawaii o le Hawaii sono oh ma ma come perlino se ne andava da Hawaii mica se ne andava a bora a bora infatti anche quello è vero no poi riflettevo sul fatto che quando vai in queste grandi strutture magari c'è anche la palla fitta sulle acque sì per carità è bello ma dopo un po' che fai? quello è il problema cioè che fai? stai sempre io mi annoio spesso io perciò amo Waikiki perché il resort anche qua mi piace però che fai? stai sempre nel resort perché poi se vai fuori non c'è niente mentre Waikiki esci fuori siamo andati in discoteca siamo andati a mangiare ristoranti passeggio cioè c'è più vita e beh oh ma inizia questa camminata mi ha fatto vedere le fame allora è il primo bel tramonto che vediamo comunque da quando siamo arrivati perché è stato sempre nuvoloso invece oggi ce l'ho scoperto sì è stato un tramonto veramente bello devo dire l'abbiamo anche immortalato in questo video quindi insomma qualcosa di buono l'abbiamo fatto l'abbiamo condiviso eh sì perché l'abbiamo tenuto solo per noi in realtà non era l'idea di fare questo video non era vedere il tramonto perché non ce l'aspettavamo però è successo e quindi ce lo siamo beccati e ne siamo felici quindi diventa anche un video ricordo poi di questo viaggio che comunque ecco un viaggio la guai non è un viaggio che fa ogni giorno perché è lontano ci ritorneremo? ma guarda mai dire mai io sai ah guarda c'è anche la palestra qua sì sì era bello ovvio cose che noi evitiamo ovviamente quando siamo in vacanza comunque guarda io dico questi surfisti no ma quanto devono essere felici in questo momento no col tramonto adesso non troppo perché mi sa che appena il sole cala comincia a far freddino ma poi da dove se ne escono dall'acqua? eh io penso che fanno verso la riva scusa no dalla riva certo non qua quelli vanno a nuoto dalla riva fino a qua comunque stanno sempre qua perché questa è la parte più bella secondo me guarda quei nuvoloni laggiù vedi com'è com'è imprevedibile il tempo c'è caso che magari adesso piove pure dici che piove? magari no però guarda quelle nuvole laggiù anche questo nuvolone posso inquadralo scusami mamma mia fa paura è minaccioso no tra l'altro qua c'è sempre l'allerta tsunami ogni tanto ma è che sta piovendo no bellissimo bellissimo da questa bellissima passeggiata tanto bere sotto e tutto ciao ragazzi non te la sei messa no però mi sono messa questo bellissima 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 bellissima